In questo numero del Tg Ambiente, il riscaldamento globale minaccia la potabilità dell'acqua, accordo tra Intesa San Paolo e Acea per la tutela dell'acqua. Materie prime critiche, Ispra, presenta il database Gemma. Bilancio di sostenibilità A2A in Puglia, 35 milioni il valore economico generato. Il cambiamento climatico sta provocando un progressivo aumento non solo delle temperature atmosferiche ma anche di quelle di mari e oceani. Il riscaldamento globale ha effetti anche sulle falde acquifere. Secondo uno studio pubblicato su Nature Geoscience, basato su un modello di emissioni intermedie, entro il 2100 è possibile che tra i 77 e i 188 milioni di persone si troveranno a vivere in aree del pianeta in cui la temperatura delle acque sotterranee sia superiore alla soglia più alta stabilita per l'acqua potabile di ogni paese. In determinate condizioni l'aumento della temperatura delle acque sotterranee può portare a un incremento delle concentrazioni di sostanze nocive come l'arsenico o il manganese, spiegano gli autori dello studio. Queste concentrazioni più elevate possono avere un impatto negativo sulla salute umana, soprattutto quando le acque sotterranee sono utilizzate come acqua potabile. Inoltre, una temperatura eccessiva può promuovere la crescita di agenti patogeni all'interno delle falde come la legionella o altri batteri. Secondo i risultati della ricerca, le temperature delle acque sotterranee aumenterebbero di 2,1 gradi centigradi nello scenario intermedio e di 3,5 gradi centigradi, prendendo invece in considerazione lo scenario estremo. Gli intervalli così ampi, spiegano gli autori, sono dovuti alla variabilità degli effetti che il cambiamento climatico potrebbe avere in diverse regioni del pianeta. Fra le regioni che si prevede saranno maggiormente interessate dal fenomeno, ci sono invece alcune zone della Russia, della Cina, dell'America settentrionale e della foresta amazonica. Intesa San Paolo e Acea hanno firmato il primo accordo nazionale per la salvaguardia e la gestione sostenibile dell'acqua nei processi produttivi delle aziende, anche in relazione alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un accordo che prevede lo stanziamento di circa 4,4 miliardi di euro per tutelare la risorsa idrica. Più in generale, intesa San Paolo, metterà a disposizione 20 miliardi di euro per supportare le iniziative delle aziende e degli operatori della filiera idrica. Anna Roscio, Executive Director Sales and Marketing Imprese di Intesa San Paolo e Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea. L'acqua riguarda grossomodo un milione e mezzo di imprese agricole, circa 300.000 imprese manifatturiere, quindi un tema di tutti. L'obiettivo di questo accordo è mettere a disposizione le competenze del gruppo Acea in termini di advisory industriale, nuove tecnologie e le risorse finanziarie del gruppo per fare in modo che le imprese investano su nuove tecnologie per il riutilizzo dell'acqua, per il riuso e per l'efficientamento idrico. L'Italia ha bisogno di importanti investimenti, questa è una condizione non solo dell'Italia ma in generale dell'Europa. Considerate che in questo settore si stanno muovendo oggi anche in altre aree geografiche, gli Stati Uniti, la Cina, l'India stanno iniziando a investire pesantemente sul sostegno e lo sviluppo di investimenti in questo settore. L'Italia non è da meno, la nostra stima oggi di investimenti è di circa una cinquantina di miliardi, già oggi noi siamo impegnati in tutti i territori in cui siamo presenti a fare importanti investimenti sia per quanto riguarda tutto il sistema dell'adduzione, tutto il sistema della distribuzione ma anche tutto il campo di quello che riguarda la depurazione e il riuso dell'acqua. Intesa San Paolo e Acea hanno anche realizzato un osservatorio su settore idrico. Laura Campanini, Research Department di Intesa San Paolo. Abbiamo dedicato questo primo numero dell'osservatorio al tema del riuso della risorsa idrica, ovvero la possibilità di riutilizzare l'acqua depurata in modo opportuno dai depuratori per scopi agricoli, industriali e anche civili. Ed è un tema di grande interesse in una situazione di stress idrico crescente perché rappresenta una fonte alternativa di approvvigionamento idrico che può in qualche modo, in alcuni specifici casi, sostituire l'approvvigionamento convenzionale da risorse vergini. L'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, presenta GEMMA, il database geologico minerario che raccoglie ed armonizza i dati relativi a tutti i giacimenti coltivati in passato e di risultati delle varie campagne di ricerca nazionali e locali con un particolare focus sulle materie prime critiche. La banca dati, aggiornata nell'ambito del progetto PNRR Geoscience IR, rappresenta il punto di partenza per l'elaborazione del programma minerario nazionale imposto da regolamento europeo ed affidato all'ISPRA. Oggi siamo in grado di avere un primo database che mettiamo a disposizione del Paese. Il nuovo decreto legislativo in attuazione del regolamento comunitario ci affida il compito del piano nazionale minerario e questo ritengo che sia un elemento fondamentale perché abbiamo bisogno di conoscere, tornare a conoscere lo stato delle nostre miniere in relazione alle materie prime critiche per poter rendere il Paese competitivo e meno dipendente dalle forniture dell'estero. Serve però un cambio di paradigma, viene evidenziato durante il convegno. È necessario passare da rifiuti inquinanti da bonificare a potenziale risorsa da recuperare. A livello mondiale infatti sta crescendo l'interesse della coltivazione degli scarti minerari come fonte di materie prime. La parola di inquinamento è proibita da nuovi regolamenti, i nuovi progetti minerari sono considerati strategici solo se verrà assicurata la sostenibilità ambientale e sociale. Per la parte ambientale ISPRA è un vigile attento perché noi siamo l'istituzione di riferimento sull'ambiente e quindi non potranno mai essere approvati dei progetti che non rispettino l'ambiente. E quindi in questo contesto oggi la possibilità è duplice da una parte quella di fare nuove estrazioni, dall'altra abbiamo la possibilità di poter recuperare le materie prime critiche da rifiuti estrattivi. Un'eredità, quelle delle miniere abbandonate, pare a 150 milioni di metro cubo di scarti. Da questo possiamo recuperare materie prime critiche e risolvere due problemi. crescere da punto di vista economico ma risolve il problema ambientale. 35 milioni di euro, il valore economico generato sul territorio nel 2023, in crescita del 35% rispetto al 2022. È uno dei dati emersi in occasione della presentazione a Brindisi del bilancio di sostenibilità territoriale della Puglia di A2A, che rendi conto alle prestazioni ambientali, economiche e sociali del gruppo sul territorio nel 2023, i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. Lorenzo Spadoni, direttore generazione and trading di A2A. Presentiamo un bilancio di sostenibilità che ha degli indicatori in crescita rispetto all'anno precedente. Nella filiera ambiente noi siamo attivi con diversi impianti in Puglia. La filiera energia, l'impianto che oggi ci ospita, qui la centrale di Brindisi, è un impianto che è diventato importante per la gestione della transizione energetica, soprattutto per assicurare alla rete elettrica dei servizi fondamentali, quali in particolare la regolazione di tensione che noi facciamo qui con dei generatori sincroni. Gli investimenti in infrastrutture del gruppo in Puglia, oltre 9 milioni di euro, sono in crescita del 54% rispetto al 2022. Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. A2A è una presenza storica, una delle grandi presenze insieme a tante altre aziende pubbliche e private che hanno fatto della zona industriale di Brindisi una delle zone industriali più grandi d'Europa. Non solo, ma una delle zone più variegate, più articolate che esistono nell'interno il soggiorno d'Italia. Abbiamo la chimica, la farmaceutica, l'energia, l'aeronautica, l'aerospazio e tante altre piccole e medie imprese che sostengono complessivamente questa grande struttura industriale che oggi si trova ad avviare un percorso di transizioni plurale energetica, ecologica e anche digitale rispetto alla quale noi pensiamo come città e quindi come territorio di dover da un lato sostenere ma dall'altro aiutare queste grandi imprese a dare una mano alla città. Grazie.